L'arrivo di Papa Francesco per la perdonanza per aprire la Porta Santa di Collemaggio il prossimo 28 agosto rimette al centro la questione della ricostruzione, o meglio della non ricostruzione a 13 anni dal sisma, della Cattedrale del Duomo nell'omonima piazza. Il Pontefice, infatti, prima dell'apertura della Porta Santa, visiterà il Duomo e incontrerà i familiari delle vittime del sisma in piazza. Il progetto esecutivo, come si sa, è approvato da tempo. Il segretariato l'ho acquisito dal Consorzio Sant'Emilio e dalla Diocesi, che lo aveva commissionato per 35 milioni di euro circa, prima che la legge dello Stato del 2015 riconoscesse gli interventi sul patrimonio culturale ecclesiastico di competenza del Ministero dei Beni Culturali. L'intervento di ricostruzione di San Massimo è diviso in due stralci. Il primo, di 13 milioni circa, riguarderà la zona presbiteriale interessata dal crollo della copertura, mentre il secondo, di 12 milioni circa, interesserà la restante parte. La notizia della conferma della visita del Santo Padre è una notizia straordinaria. Come amministrazione e Ministero della Cultura stiamo procedendo costantemente con l'iter affinché l'attuazione e l'intervento possa avvenire prima possibile. È in corso in queste settimane la procedura di gara per la scelta del contraente, la scadenza delle offerte, la presentazione è il 5 luglio, quindi insomma siamo fiduciosi che nel corso dell'anno si possa aggiudicare la gara e quindi contrattualizzare e a seguire avviare la consegna dei lavori. Il segretariato ha a disposizione 19 milioni circa del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 che sono parte dei complessivi 36 milioni di lavori più spese. L'importo a base di gara è di circa 25 milioni invece. Sulle risorse aggiuntive si sta lavorando, ma ci saranno, il Ministero lo ha assicurato. Il progetto e la gara è stata organizzata e pubblicata sull'intero ammontare dei lavori, quindi sommatoria di uno stralcio numero uno, stralcio numero due, l'importo complessivo dei lavori è pari a 25 milioni circa, la disponibilità effettiva è per il primo stralcio, ma da rassicurazioni ricevute dal Ministero della Cultura nei prossimi mesi sarà inserito il secondo stralcio nella nuova programmazione.